Erano in tanti colleghi, amici, tifosi della Lucchese, solo una rappresentanza di tutte le persone che gli hanno voluto bene e lo hanno seguito nel suo percorso umano e professionale. Oggi, 7 settembre, nella chiesa di San Frediano si sono celebrati i funerali del giornalista e imprenditori a Diego Checchi, morto martedì a soli 39 anni. Un lungo corteo, quasi come quelli per le partite di calcio, si è mosso dall'obitorio dell'ospedale del Campo di Marte, dove la salma era esposta, fino alla chiesa cittadina, con una sosta doverosa allo stadio Porta Elisa, teatro della grande passione di Diego, la Lucchese. Poi, tutti a stringersi intorno alla madre di Diego, Francesca, e al fratello gemello, Luca. Ad ufficiare la cerimonia, davanti alla bara avvolta dai colori rossoneri, il responsabile delle parrocchie del centro storico, Don Lucio Malanca.